Una telefonata dalla Tunisia avvisava che in zona isola di Torre, lungo l'argine del Brenta, a Padova, era in corso un pestaggio dopo un sequestro di persona e una rapina, a dare l'allarme una familiare di un 33enne tunisino che era stato prelevato con la forza da 5 persone mentre era al capolinea nord del tram, rapinato di 100 euro e poi picchiato lungo l'argine. I malviventi durante il pestaggio hanno avviato una videochiamata con i familiari della vittima per estorcergli altro denaro. I militari dell'arma giunti sul posto, dopo aver soccorso il malcapitato che è stato portato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata, hanno rintracciato due dei cinque componenti della banda, un 17enne e un 20enne e entrambi con nazionali della vittima e con precedenti per droga. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Padova e in un centro di prima accoglienza di Treviso. I carabinieri sono sulle tracce degli altri componenti della banda.